Le città si stanno trasformando, i comuni hanno la possibilità di pianificare lo sviluppo economico, sociale, culturale e delle infrastrutture del loro territorio. Così facendo i cittadini si sentono sempre più europei, sempre più all'altezza delle grandi capitali europee. Tutto questo grazie a un programma operativo nazionale che è il PONMETRO. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.